23 febbraio 2020 finalmente Sony presenta la sua nuova FX3 che va a concludere il cerchio della linea Cine della casa nipponica oltreoceano e ci fa capire più o meno verso quale direzione sta navigando proprio questa bellissima famiglia quale macchina allora andare a comprare tra la Sony FX6, la FX3 e la Sony A7S3, rallo? beh questa non è effettivamente la domanda giusta prima bisognerebbe capire verso quale di produzione siete più orientati ovviamente la FX6 è una produzione molto più cinematografica dato anche dal corpo macchina che è completamente differente rispetto agli altri due infatti la FX3 e la Sony A7S3 hanno diciamo un corpo macchina molto più simile e allora le vedo più per un tipo di filmmaker indipendente e solista che va diciamo a fare certe tipo di produzioni allora cerchiamo di capire che cosa cambia tra tutte queste tre macchine e che cosa accomuna forse la FX3 dalla Sony A7S3 sicuramente tutte hanno lo stesso sensore che va ad essere spinto fino ai 409.600 ISO una roba da pazzi che mi viene ancora veramente la pelle d'oca e entrambe tutte queste macchine in realtà tutte e tre hanno anche il profilo colore uguale hanno tutte l'S-Log2, hanno l'S-Log3, l'HLG e anche udite udite l'S-Cinetone che inizialmente non era presente sulla Sony A7S3 ma che con un nuovo aggiornamento firmware che potete fare dal sito di Sony attualmente lo potrete avere anche voi in camera quindi allora che cosa cambia effettivamente? ciò che cambia è semplicemente i filtri ND sulla serie FX6 che però ci stanno perché essendo una linea cinematografica molto diversa rispetto al resto va a perdere quello che è la stabilizzazione interna del corpo mentre invece la FX3 e la Sony A7S3 hanno la stabilizzazione interna non avendo però i filtri ND cosa che direi abbastanza ok questo perché ovviamente a livello di produzione essendo un filmmaker indipendente possiamo benissimo tralasciare i filtri ND mentre invece su una Sony FX6 meglio avere i filtri ND e poi avere un crew operator comunque qualcuno che vada a gestire la stabilizzazione della macchina in modo completamente diverso rispetto a quello che poi potremmo fare effettivamente noi e allora di conseguenza questa è la scelta per me ideale anche a livello di risoluzioni tutte e tre le macchine fotografiche e le videocamere in realtà vanno a registrare a 4K 120 e in Full HD fino a 240 il che ci porta veramente ad esplorare dei mondi veramente fantastici quale macchina prendere tra queste tre? beh, semplicemente la FX6 avete già capito che è una macchina totalmente diversa per una produzione più cinematografica e la FX3 potrebbe essere ovviamente facendo parte della linea Cine di Sony un buonissimo secondo corpo macchina rispetto alla FX6 anche perché la FX3 rispetto alla Sony A7S3 va a perdere il viewfinder cosa che per me è fondamentale avere perché in molte situazioni anche quando siamo contro luce o comunque essendo io una persona che ha bisogno di concentrarsi molto su quello che sta andando a registrare la possibilità di avere un mirino elettronico che ci focalizza solo sulla scena e nessun elemento che può diciamo distrarre da quella che è la composizione è fondamentale allora di conseguenza la Sony A7S3 la vedo più per il tipo di riprese che vado a fare io generalmente come filmmaker indipendente e solista mentre per quanto riguarda la FX3 buonissimo secondo corpo macchina per la X6 o anche ottimo corpo macchina da solo ma nulla vieta di affiancarlo ad una Sony A7S3 e la 7S3 nulla vieta che sia affiancata ad una Sony A7S3 e una Sony A7C queste erano più o meno le mie considerazioni se voi avete comunque qualcosa da dire in merito a qualche domanda da fare riguardo queste fotocamere io sarò ben lieto di riuscire a rispondervi nel caso ma mi raccomando ricordatevi che siete dei fighi se vi iscrivete al canale e lo siete ancora di più se mi date e battete anche il pugno porco giri al sedere